Siamo con l'assessore Osvaldo Lupi che ci presenterà l'ottava edizione di Romantica la notte bianca ma rassegna floristica internazionale a Bugnare. Assessore. Anche quest'anno siamo giunti a questo nostro importante appuntamento che è l'ottava edizione del Festival Internazionale di Fiori e Fiori. Come sappiamo è una parte dell'arte floreale, il trionfo dell'arte floreale è un momento importante dell'Europa e il tema anche per quest'anno ha risvolti ambientali la sensibilizzazione continua nello scorso anno verso quello che è il tema del riciclaggio del riutilizzo dei materiali apparentemente in disuso e di utilizzare pochissima materia prima con molto spreco, con poco spreco diciamo di magari usa e getta e di riciclare e utilizzare sia i componenti che vengono da risultare la natura ma anche i componenti come carcassi, per farne delle vere sculture, delle vere opere d'arte. Ovviamente insieme alla parte del Festival dei Fioristi c'è la parte del trattenimento che quest'anno sarà come altri anni però ancora più ricca da segnalare con il connubio con il Festival Internazionale di Internazionale di Gets e con un appuntamento inserito nel nostro cartellone che è la presenza di Gege Telesforo e la sua band e che darà una qualità in più a quella della nostra offerta musicale e noi daremo a quello che è il Festival di Monta di Gets un tocco di colore e di sapore. In ogni angolo del centro storico che saranno comunque andobbati e decorati con queste composizioni floreali, con queste sculture floreali ci saranno le nostre associazioni, le nostre associazioni del territorio, in particolare anche da citare l'associazione del Voto Maria della Tommoli sul mondo e che daranno il meglio di quello che è l'offerta in agastronomica del territorio.